Benvenuti nel mondo degli orologi Ralph Lauren. Ralph Lauren è uno dei marchi di moda più noti e rispettati al mondo, famoso per il suo stile classico e sofisticato, che si riflette anche nella collezione di orologi Ralph Lauren. Fondata nel 1967 dallo stilista Ralph Lauren, la casa di moda americana ha sempre prestato grande attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali, e questo si riflette anche nella collezione di orologi Ralph Lauren. La collezione di orologi Ralph Lauren è disponibile sia per uomo che per donna, e comprende modelli eleganti e raffinati, realizzati con materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, l'oro e il platino. I movimenti degli orologi Ralph Lauren sono svizzeri di alta qualità, garantendo precisione e affidabilità. La collezione di orologi Ralph Lauren è divisa in diverse linee, ognuna delle quali caratterizzata da un design unico e distintivo. Tra le linee più famose troviamo la Ralph Lauren Stirap, ispirata al mondo equestre, la Ralph Lauren Automotive, ispirata al mondo delle auto d'epoca, e la Ralph Lauren Safari, ispirata al mondo dei safari africani. Ogni linea presenta modelli specifici, tutti caratterizzati dalla qualità e dall'attenzione ai dettagli che contraddistinguono il marchio Ralph Lauren. Gli orologi Ralph Lauren sono disponibili in diverse complicazioni, come la data, il cronografo e la GMT, e sono caratterizzati da una grande attenzione ai dettagli, come ad esempio i quadranti con numeri romani, che conferiscono agli orologi un'area classica e sofisticata. Se stai cercando un orologio di lusso elegante e sofisticato, gli orologi Ralph Lauren potrebbero essere la scelta giusta per te. Sono orologi di alta qualità, realizzati con materiali pregiati e dotati di movimenti svizzeri di precisione, che ti accompagneranno per molti anni. Inoltre, la vasta gamma di linee e modelli disponibili ti permetterà di trovare l'orologio perfetto per il tuo stile personale.